Fino a domani abiterà in questa zona, poi la sua meta sarà l'Italia. Per una studentessa di Cervetri a Londra per lavoro si è conclusa l'esperienza inglese a causa dell'emergenza coronavirus. Lisa, 19 anni, domenica sera potrà riabbracciare i suoi genitori che con ansia aspettano che ritorni in Italia. Ho deciso di fare questa esperienza a Londra, un'esperienza principalmente lavorativa, ma a causa del coronavirus non ho potuto portare a termine tanti progetti che avevo. Lascerà una nazione in cui aveva trovato lavoro come cameriera. Nonostante non volesse fare il ritorno in Italia, sono stati i genitori a convincerla del grande problema sanitario in Aguato. Dopo svariati litigi con i miei genitori perché dubitavano della sanità inglese, ho deciso di prendere un volo per l'Italia, offerto dalla Farnesina. Passerò i miei 14 giorni obbligatori di quarantena presso un domicilio diverso, un altro indirizzo, per tutelare la mia famiglia, per essere sicura di non infettare e di non essere infettata. Grazie. Grazie. Grazie.